bentornati amici gialloblu e finalmente ce l'abbiamo fatta finalmente siamo riusciti a vincere la prima di campionato parma ferra il piscelò 2-0 ormai non ci credeva più non ci sperava più nessuno cioè dopo quattro cinque anni di pareggiare sempre la prima di campionato finalmente ce l'abbiamo cavata speriamo che sia un buon segno andiamo con i miei appunti a descrivere brevemente il match e poi facciamo la il consueto approfondimento molto più importante che le fasi del match comunque al primo minuto ovviamente non ci facciamo ci facciamo diciamo mancare subito una cappella di osorio ovviamente osorio limite dell'aria si fa fare un bellissimo tunnel e l'avversario entra in aria per fortuna che un compagno raddoppia riusciamo a chiudere nell'area di rigore questa azione che era pericolosissima ovviamente terzo minuto compagnon spaventa ancora il parma in aria finta contro finta tiro a giro fuori di pochissimo all'ottavo minuto c'è un ernanich entra in aria controlla male il pallone franando un po su un difensore palla che giunge nei piedi di men che ha due passi dal portiere la sbaglia la butta fuori ma per fortuna la sua è fuori gioco che se no era un errore veramente incredibile perché da due millimetri dal portiere e l'ha buttata fuori quindi neanche c'è entrata la porta va bene andiamo a finire al ventiseiesimo con circati che si addormenta letteralmente si fa fregare la palla al limite dell'aria per fortuna poi il parma riesce a recuperare e c'è andata bene ancora ma al trentacinquesimo c'è la svolta c'è la svolta con un rigore per il parma che nasce così c'è un cross man sul secondo palo arriva su questa palla alta colpisce di testa il pallone finisce sulla braccio aperto del difensore in questo caso martella e quindi si va al VAR si va al VAR ed è calcio di rigore per il parma sacro santo lo tira benedicciac e gol bel gol spiazzando pizzignaco subito dopo reazione rapida e vehemente della ferralpi con carraro che da fuori l'area tira lato di poco è andata bene anche lì diciamo chiusura del primo tempo chiusura del primo tempo un bello schema su punizione fra man e arnani e bel tiro finale di man deviato dal portiere della ferralpi salò calcio d'angolo si salva vediamo compagnone sempre molto attivo per la ferralpi salò continua a insidiare diciamo la fascia difensiva del parma cinquattottesimo c'è il cambio esce bonnì ed entra partipilo esce somme e entra bernabè e diciamo che bernabè dà una bella impronta al match ma prima che avvenga questo al sessantaduesimo ennesimo pallone perso in attacco da usorio per una palla data troppo corta e rischiamo una ripartenza terrificante per fortuna riusciamo diciamo chiuderla però anche qua rischio terribile abbiamo da notare al sessantaquattresimo un dennis ben continuamente dirompente che continua recupera una palla di difesa parte come un missile in contropiede e sulla trequarti viene esteso perché sennò o andava in porta o usciva a seguire a seguire a usciva a servire i compagni e potrebbe essere un'azione pericolosissima per il parma va bene al sessantaseesimo il gol di bernabè bernabè appoggia sulla sinistra dennis man dennis man la ritorna bernabè in area si avventa sul lato sinistro dell'area di rigore bernabè tiro di incrociare alla messi raso terra sul palo alla sinistra del portiere della feralpi e gol del parma raso terra bellissimo paragonabile ad alcuni gol effettivamente di messi perché comunque sembrava facile ma non era per niente facile buttare dentro col pallone diciamo un tiro da biliardo precisissimo di bernabè 2 a 0 per il parma settantaseesimo cuba il culibali è ancora devastante che corre come un matto continuamente è veramente aiuta all'azione offensiva del parma abbiamo da registrare l'ottantunesimo una traversa da tre metri colpita da ballestrero su questo centrocampista però devo dire siamo 2 a 0 per il parma un'azione ci può anche stare una serie di batteri batti in area palla arriva sulla traversa però insomma ok però non è andata dentro quindi va bene così il parma resta 2 a 0 all'ottantaduesimo ancora un magistrale recupero difensivo di culibali in piena corsa in formissimo veramente e basta è più che sufficiente per dirvi che adesso passiamo passiamo all'analisi che quella che diciamo secondo me è più importante che tutte queste azioni passiamo ora il commento del match vero e proprio cosa vi devo dire di questa partita del parma vi devo dire che tutto sommato mi è piaciuta un parma che è iniziato diciamo abbastanza i primi 30 35 minuti fino al gol su rigore ha iniziato abbastanza come dire tranquillo ma non tambureggiante diciamo abbastanza discreto niente di più però c'è da dire che il pallino del gioco ce l'ha sempre avuto il parma e cosa c'è da registrare da registrare un culibali che non sembra un altro giocatore nel senso che culibali così è da mettere sempre titolare perché sta correndo per due e insieme ad stevez c'è da dire ma stevez è abbastanza la normalità mentre culibali non era così e adesso invece così sta correndo da matti e tra recuperi e aiuto all'attacco devo dire utilissimo poi cosa c'è da registrare c'è da registrare un dennis man ma non dico migliore in campo quasi c'è nel senso un altro giocatore sta dando continuità cosa che non è mai riuscito a fare da questo perché tecnicamente ragazzo secondo me non si discute mica utilissimo e in questo momento assist corsa voglia dribbling cioè si vede che ne ha voglia di farsi vedere un altro dennis man che se continua così non può che rimanere titolare inamovibile detto questo cosa posso dire posso dire che andiamo ai lati negativi perché allora bonni questa volta non ha fatto sfracelli assolutamente sostituito niente di bene niente di male così però andiamo ai lati negativi perché ci sono anche in queste partite abbiamo visto che in attacco anche se non c'è il bonni che fa il fenomeno o se non c'è c'è la comunque bernabè ci fa gol sale al posto di un som che comunque un altro som rispetto a quello degli ultimi l'anno scorso così c'è un netto miglioramento ci possiamo addirittura permettere del prato in panchina e in più cosa vi devo dire vi devo dire che ci sono i lati negativo è che però la difesa fa cagare cioè nel senso la difesa riuscire a tenere però uno ha concesso comunque delle occasioni seconda cosa è la ferralpi salò con tutto il rispetto non è un solo palermo sampdoria forse insomma cerchiamo di capire è neopromossa comunque ok quindi la difesa ha rischiato comunque un po nonostante che era la ferralpi salò ma perché ha rischiato due o tre solite cappelle di osorio quindi tu praticamente in una difesa che comunque potrebbe reggere basta averci paperino in difesa e non osorio e c'è osorio purtroppo che è visto come un titolare di esperienza cioè secondo pecchia è uno di esperienza e in teoria anche per lui è un titolare e questa cosa qua fa sì che noi ci cucchiamo osorio tutte le volte che c'è sperando che sia infortunato qualche volta perché e tutte le volte dobbiamo rischiare ma al primo minuto al primo cioè non al ventesimo all'ottanta al primo minuto abbiamo rischiato di beccare gol per un tunnel tipo bambino dell'asilo si fa fare tunnel limite dell'area giocatore che entra in area di rigore e per miracolo non sono riusciti a segnare e poi ne hanno fatti altri due sempre osorio uno si è giunto anche cercati vabbè abbiamo detto però un errore a partita ci potrebbe anche stare ma due o tre o quattro no quindi osorio con tre tentativi di fregarci diciamo e farci beccare gol no momenti ci riusciva e ricordiamoci che se segna prima l'avversario non è matematica riuscire a recuperare eccetera quindi noi in attacco anche senza attaccante come giochiamo adesso veloci senza Vasquez con un gioco diverso completamente devo dire molto più squadra riusciamo a essere pericolosi comunque in un modo o nell'altro uno o l'altro sono pericolosi centrocampo non c'è male davvero siamo in attesa di chiara che arrivi a completare l'organico per dare un'alternativa zagaridis è probabilmente sinceramente più buono c'è poco da fare quindi già andiamo a migliorare ok ci mancherebbe il centrale ragazzi perché qua ci manca il centrale ma se ci arriva anche il centrale ma anche se fosse l'ultimo degli ultimi ma che non fa una cappella due o tre a partita miglioriamo il problema che chiunque arrivi se non è uno di alto rango cosa che non credo che arriverà francamente non farà mai scendere in panchina Osorio perché l'hanno preso come se fosse Baresi Maldini cioè se so perché mi dispiace ma considerare Osorio un titolare considerarlo praticamente inamovibile ed esperienza mi viene da ridere cioè in senso è esperto di ogni partita uno su due far due o tre cappelle che ti fa rischiare di gol poi se non lo prendi siamo tutti amici come prima però no no quindi chiudo perché se no sembra sempre contro Osorio però ragazzi se il problema sta lì o il abbiamo top problemi tre o quattro o cinque se il 75 per cento di questi problemi è Osorio comunque la fase difensiva in particolare lui bisognerebbe cercare di porvi rimedio però niente ripeto è considerato come è Burr, Ferrara, Cannavaro, Maldini, Baresi perché è inamovibile cioè se non è mezzo morto o infortunato o squalificato adesso è Gesempa come vi devo dire niente quindi speriamo in un arrivo del mercato che possa insidiare questo campione incredibile in modo da riuscire a migliorare e rischiare meno per il resto io sono soddisfatto di questo inizio adesso vediamo contro il Cittadella che sicuramente non è la Feralpi cosa succede in casa diamo una bella conferma che sarebbe veramente magnifico e poi e poi ci attende anche ci aspetta anche il Pisa fuori casa quindi cominciamo a ragionare con aumentiamo la difficoltà e poi andiamo a giocarci il derby con la Reggiana in casa e anche lì voglio vedere due Maroni in campo incredibili ciao a tutti e buon proseguimento di settimana ciao